Grazie a tutti. Diciamo che la situazione politica direi che c'è poco da commentare. Ultimamente possiamo dire che il sindaco ha dato una lezione esemplare di strategia politica ai suoi detrattori. C'è stata una lotta non a darmi pari, perché comunque non ha avuto nessun tipo di interlocutore politico di spessore, per affrontare una discussione che riguardasse davvero gli interessi della città. Per mesi abbiamo assistito a commissariamenti, correntine, appoggi esterni, ma in realtà nessuno davvero ha presentato soluzioni concrete ai problemi che ci sono in questo momento in città. Gli algheresi sono indignati, spaventati e vivono con dolore questo crudele gioco delle poltrone. E' chiaro che adesso questo nuovo riassetto politico permetterà al sindaco di concludere la legislatura a questo punto, e quindi appunto una legislatura che ormai sta andando verso la fine, penso che manchino 14 mesi, 15 mesi, insomma, più o meno. Un anno e mezzo, non stiamo neanche a contare più. E quindi è necessario che si guardi già al futuro, soprattutto perché penso che sia arrivato il momento che molti esponenti politici che oggi ricoprono, insomma, fanno strategie e occupano pezzi della città, pezzi poltrone politici della città, penso che sia arrivato il momento che si facciano da parte per dare spazio davvero a chi ama questa città, a chi davvero vuole risolvere i problemi di questa città. Come può essere catalogato, secondo lei, l'accordo che è stato raggiunto tra il sindaco Mario Bruno e il Partito Democratico che di fatto appunto consentirà di proseguire la consigliatura? Ma io credo che sia semplicemente un accordo o un cartello elettorale. Sino a ieri, questo lo dicono i giornali, lo dice la TV, quindi, Sino a ieri il centrosinistra italiano era completamente sfasciato, nel senso che il centrosinistra o quello che rimaneva del centrosinistra a livello nazionale stava governando, sta governando tutt'oggi, perché in ogni espressione appunto di queste correnti, con il centrodestra. Ricordiamo che tutti i movimenti nati da Forza Italia, piuttosto che dall'Udc, tutti i personaggi politici di spicco, che comunque provenivano da una certa area politica, che oggi governano insieme a un'altra area politica. Oggi si parla tanto di rifare il centrosinistra, quando lo stesso centrosinistra sostanzialmente non lo vuole, perché se noi prendiamo i dati anche di oggi a livello nazionale, ancora sentiamo che di possibili accordi tra il Partito Democratico e il Movimento Democratici Progressisti. Vediamo che dall'altra parte il centrodestra, che sembra aver chiuso sostanzialmente un accordo, un cartello elettorale con i storici partiti del centrodestra, in realtà sta già mettendo le mani avanti, se vediamo che comunque sarà necessario, apriremo comunque a tutte le altre forze politiche, non solo di centrodestra. È vero che il dato è allarmante, e soprattutto il dato è dato dal fatto che abbiamo una legge elettorale, partita da poco, che è un po' meglio rispetto a quella che c'era prima, ma non è quello che sostanzialmente vogliamo tutti. Quello che vorremmo noi, nel senso penso la maggior parte dei cittadini, è avere un sistema chiaro, pulito, dove vi sia la possibilità di mettere le preferenze, cioè scrivere nome e cognome, anche per l'elezione dei nostri deputati. Oggi abbiamo le preferenze per eleggere i consigli comunali, i consigli regionali, il Parlamento europeo e abbiamo difficoltà a eleggere i deputati e a mettere le preferenze per il Parlamento nazionale. Hanno messo insomma dei listini bloccati, adesso questo Rosatellum è un po' meglio di quello che c'era prima, però io non so se poi davvero permetterà di dare uno schema politico in grado di governare. perché vero è che la gente è stanca di sentire inciuci e soprattutto è indignata, ma non solo a livello locale, perché poi chiaramente a tutti i livelli, perché parliamoci chiaro, abbiamo subito in maniera eclatante e sotto gli occhi di tutti la situazione dell'aeroporto, la situazione degli ospedali, della nostra sanità. È inutile continuare a commentare sempre le stesse cose, perché non voglio parlare di aeroporto, porto, tante volte abbiamo parlato di ospedale, però è chiaro che non si può continuare ad andare avanti così. Noi oggi abbiamo bisogno innanzitutto di essere tutelati di più come sardi, sia a Roma, ma sia in Sardegna. Cioè chi va a rappresentare le istituzioni di Sardegna deve essere cosciente che deve tutelarci davvero. Ad Alghero, punto di domanda, ammesso che il suo giudizio sull'operato di Mario Bruno, come mi sembra di capire, è negativo, quale può essere l'alternativa? Beh, è difficile in questo momento scoperchiare le carte. Diciamo che l'alternativa a questo gioco delle poltrone sarebbe già il primo passo, nel senso che oggi l'alternativa è portare in Consiglio Comunale e soprattutto a tutti i livelli istituzionali, quindi non solo a livello comunale, ma anche a livello regionale e nazionale, persone che amino davvero la nostra città. Soprattutto persone che si spendano non solo per i propri interessi personali, ma che si spendano per i cittadini. L'alternativa penso che è sotto gli occhi di tutti, insomma vedo in questi giorni movimenti, contrattazioni, diciamo non è chiaro in questo momento. Non mi sento di dire già quale potrebbe essere l'alternativa. E' chiaro che oggi il centrodestra è sotto gli occhi di tutti, che è molto forte. Si può costruire anche ad Alghero? Io penso che ad Alghero possa costruirsi davvero una forza alternativa a quella che noi abbiamo oggi, una forza che sia nuova, una forza fatta soprattutto di nuove leve, cioè di gente che davvero abbia voglia di mettersi in gioco, di persone che abbiano voglia davvero di spendersi per la nostra città. Ci sono, perché ne vediamo tutti i giorni, io ne incontro tutti i giorni, mi rendo conto che oggi amministrare è inutile, è davvero difficile, ma questo non deve essere un deterrente per non mettersi in gioco in prima persona. Io l'ho fatto tante volte, l'ho fatto la democrazia sino ad oggi, mi ha sempre premiato. Penso che i fatti poi che siano avvenuti negli ultimi tempi siano un segnale positivo, soprattutto per quello che è successo anche, per quello che sono state le mie scelte personali, e credo che presto sia, prossimamente penso che sia arrivato il momento di mettersi in gioco e di creare subito già una nuova alternativa, senza schemi politici preconcetti, cioè non andiamo per forza a classificare i movimenti, i partiti, le coalizioni. Attenzione che questo sistema di centro-destra e centro-sinistra, abbiamo visto a livello nazionale, è praticamente finito, nel senso che ci sono regioni dove ha vinto una coalizione, regioni dove ha vinto un'altra, ma non tutte le coalizioni e i governi poi sono simili. Noi dobbiamo trovare e richiamare tutte le forze politiche che amano questa città, tutte le forze politiche moderate che vogliono fare qualcosa per questa città e soprattutto che riconoscano, tutte quelle forze politiche che riconoscano che prima veniamo noi sardi, noi algheresi e poi vengono gli altri, perché oggi noi non possiamo più essere succubi, non possiamo più essere servi del bello e del cattivo tempo dei romani. È brutto dirlo, è un concetto che forse non è neanche tanto giusto dirlo, non sto facendo razzismo, non sto facendo alcun tipo di selezione, semplicemente ritengo che oggi i sardi e soprattutto gli algheresi debbano puntare i piedi e iniziare a pretendere e a mandare soprattutto nei vari organi istituzionali persone che davvero li rappresentino e soprattutto persone che tutelino davvero il nostro territorio, perché oggi il nord ovest della Sardegna è stato messo in ginocchio, probabilmente, 20 essi studiati a tavolino, perché basta vedere quello che sta succedendo con la sanità a Olbia, a Cagliari e quello che sta succedendo in provincia di Sassari, basta vedere quello che è successo per quanto riguarda il sistema dei trasporti a Olbia, a Cagliari, basta vedere quello che sta succedendo nel nord ovest della Sardegna, parliamo anche di navi, di trasporti marittimi, io direi che oggi siamo, noi non possiamo continuare a essere, io non so se qualcuno di voi oggi, mi dispiace parlare insomma a livello, però non so se qualcuno di voi oggi prende la nave, attenzione che oggi non ci si muove solo per far turismo, ci si muove anche per curarsi, perché oggi se uno sta male, purtroppo, per il sistema sanitario regionale che in questo momento soffre, siamo costretti ad andare fuori, e a volte siamo costretti a spendere tanti soldi, a partire da aeroporti diversi dal nostro, a prendere navi diverse, da porti diversi dal nostro porto più vicino, allora, io dico, possibile che dobbiamo continuare a farci del male in questo modo? Io penso che la povertà che in questi ultimi anni ha caratterizzato, e su questo non voglio dare le colpe all'attuale amministrazione, nel senso che io sono sempre stato, io sono stato candidato con questa amministrazione, sono stato uno di quelli che ha proposto, ha supportato il sindaco attuale, poi, con tutte le varie critiche, io sempre alla luce del sole, ho sempre mosso, però non è che in questo momento voglio dare le colpe a lui, o a questa amministrazione, è chiaro che oggi però, l'amministrazione, chi ha le colpe è l'amministrazione regionale, sarda, e su questo non è che voglio etichettare questa amministrazione, perché guardiamo anche a quelle che ci sono state in passato, noi non possiamo più continuare a tenere un sistema di trasporti, così davvero userei una parola come dire... Deficitaria, non solo deficitaria, ma anche umiliante, perché è umiliante avere un sistema di trasporto sardo, navale, di questo tipo. Allora, oggi penso che il dibattito è davvero ampio, lungo, e mi rendo conto che i tempi sono quelli che sono, soprattutto quelli giornalistici, però è chiaro che oggi è necessario, soprattutto, muoversi in 4-5 punti, trasporti, sanità e soprattutto lavoro, lavoro che è legato al turismo e all'infrastruttura. Oggi Alghero, il nord-ovest della Sardegna, soffre una grave crisi disoccupazionale e oggi non vedo domani proposte da parte di istituzioni a livello regionale o locale, proposte concrete per risolvere questa crisi dolente, soprattutto per gli algheresi, perché Alghero è una città che in questo momento soffre davvero. E quando ho detto questo gioco crudele delle poltrone che è stato fatto negli ultimi mesi, mi dispiace dirlo, ma è stato perso tanto tempo per questa città. Vediamo proprio i problemi di Alghero, per chiudere anche questa intervista. C'è qualche provvedimento di questa amministrazione che lei giudica particolarmente negativo? Qualcosa che avrebbe fatto invece magari? O che farebbe? Aprire il vaso di Pandora sarebbe. Diciamo che a volte il non fare, cioè il non avere coraggio di fare, è il peggior provvedimento che uno possa prendere, perché se io decido di non fare, di lasciare tutto così, di non decidere è la cosa peggiore che possa succedere. È vero che chi fa col rischio di sbagliare, però a volte è bene avere il coraggio e rischiare di sbagliare, perché vuol dire che se uno sbaglia vuol dire che sta facendo. Io penso che questa amministrazione abbia davvero fatto dei provvedimenti positivi, perché, attenzione, c'ero anche io quando sono stati fatti dei provvedimenti positivi, io voglio ricordare che noi avevamo il campo Rom, il campo Rom è stato chiuso. Questo è stato un atto forte che questa amministrazione ha fatto e che ha portato a termine, è stato un atto di coraggio. Un atto forte, questo bisogna riconoscerlo. Però, d'altro canto, ricordo anche gli impegni che ci eravamo presi, il concentrarsi sul fatto che in questa città oggi, è vero che c'è una grave crisi del mattone, ma c'è anche una grave crisi abitativa, ci sono famiglie che non riescono a pagarsi più l'affitto, perché non lavora più nessuno. E quindi, dobbiamo utilizzare, io non dico che dobbiamo fare di nuovo tutti i quartieri di case popolari, però utilizziamo degli strumenti per cercare di alleviare e di dare prima di tutto una casa ai nostri concittadini, perché oggi, credetemi, io non so se sono solo io che sto girando, ma oggi il problema della casa è diventato davvero importante. Io vedo ormai che le famiglie si stanno allargando, perché i figli vanno ad abitare con i genitori, con i propri figli, a volte che con i nonni, e ci sono i nonni che mantengono genitori e nipoti. Perché? Perché ormai si è creata questa situazione, direi, cafchiana, dove non si trova la via d'uscita per poter, diciamo, dare stabilità economica soprattutto ai nostri concittadini. E questo non è che parlo solo, non sto parlando solo di camerieri e di cuocchi, e attenzione, perché è vero che noi adesso siamo in un settore dove il turismo, la ristorazione in questo momento è molto quotata, molto accreditata e sta avendo un discreto successo, soprattutto nella nostra città. È anche vero che ci sono tanti giovani laureati, tanti giovani talenti che vedono che l'indirizio è ferma, la pianificazione turistica, diciamo, è ferma, perché comunque sia, oggi, Alghero, cosa offre in più rispetto a una città della Croazia, piuttosto che della Grecia? È molto difficile. Oggi uno viene ad Alghero se intanto ha la possibilità di arrivarci. Io, a volte, quando leggo questi dati di Federalberghi, dove appunto danno un più 23%, adesso a volte mi sembrano numeri sparati, non lo so, ecco, non mi permetto per carità di sentire in maniera specifica, però io esco, mi faccio una passeggiata, incontro qualcuno, il dato, il Vox Populi, è quello che mi fa capire più o meno di come stanno andando le cose. Ora, oggi noi abbiamo davvero delle gravi difficoltà. Vuoi perché da quando a Porto Torres hanno iniziato lo smantellamento di tutta, diciamo, quella parte di industria, ci ha indebolito? Vuoi perché comunque ci hanno indebolito con i trasporti? Vuoi che ci hanno indebolito con il problema della sanità? Perché comunque non avere una sanità efficiente, con tante professionalità che abbiamo oggi, mi rendo conto che questo è sempre qualcosa di negativo nei nostri confronti. È di tutti, non è dell'amministrazione, dell'opposizione, maggioranza, è di tutti, perché parliamoci chiaro che Alghero non è di una persona sola, Alghero è nostra, è di tutti, è di tutti quelli che la amano, e tutti quelli che oggi sono indignati per come davvero la politica non riesce a dare quelle risposte che invece dovrebbe dare. Quando io ero disposto, in tempi non sospetti, a occupare la pista dell'aeroporto, facciamo chiudere tutte le attività, occupiamo la pista dell'aeroporto, serviva semplicemente per dare dei segnali forti. Alghero deve dare un segnale forte. Alghero oggi è l'unica città della Sardegna che offre di più rispetto alle altre città, diciamo gli altri paesi, perché Cagliari è capoluogo, Olbia è un treno che va da solo, perché comunque è sempre stato, diciamo, scelte politiche hanno indirizzato determinate cose in quella parte lì, noi abbiamo Sassani, quindi oggi o iniziamo a capire che esistiamo anche noi, che Alghero esiste, che Alghero ha bisogno di essere forte e soprattutto ha bisogno di staccarsi da quel concetto di area metropolitana che oggi la sta danneggiando, perché quando noi abbiamo fatto, quando è stata istituita la rete metropolitana, quindi Cagliari città metropolitana, è chiaro che poi, quando hanno istituito, dicono, vabbè voi potete fare l'area metropolitana, però il Presidente è quello che ha il comune, il numero di abitanti maggiore, chiaramente è chiaro, ma lo farei anch'io, è chiaro che il Sindaco di Sassari, se dovesse andare a difendere, difende la sanità sassarese, piuttosto che quella algherese, difenderà l'università sassarese, piuttosto che quella algherese, noi nei giro di pochi anni abbiamo avuto la chiusura del Tribunale, l'Inps è ridotto all'osto, la giustizia d'entrata è salva, grazie ai locali che l'amministrazione comunale ha dato in concessione gratuita, noi non possiamo pretendere che il nostro territorio venga impoverito in questa maniera, perché ogni goccia che ci viene levata è la goccia di sangue che poi viene a mancare a questo territorio. Va bene, allora abbiamo parlato un po' di temi, domanda secca per chiudere, domanda secca e risposta secca, Alberto Mamonti si impegnerà ancora direttamente, quindi sarà candidato alle prossime elezioni che ci saranno nel 2019? Non lo so. Ok, chiediamo così allora.